Ancora guai per la Brioni e i suoi dipendenti dopo la lunga battaglia per evitare la perdita dei posti di lavoro causata dal calo delle commesse, la situazione sembrava essere stata ripristinata con l'arrivo di un nuovo stilista preso dal colosso del brand tedesco Mai Teresa. Justin Oshii dopo sette mesi invece arriva alla decisione di sollevarlo dal suo incarico. Se da un lato l'azienda aveva annunciato di voler concentrarsi sul classico, quello per cui Brioni si era sempre distinto, lo stilista australiano invece aveva operato una rivoluzione a partire dal marchio rivisitato in chiave gotica e trasformando le boutique sullo stesso genere come quella di Parigi che ha visto comparire delle bare sulle vetrine accanto al suo creatore. Io spero che quest'ultima scelta della Brioni di sollevare dall'incarico lo stilista sia un fatto positivo perché sia il fatto che l'Abrioni abbia compreso, la direzione dell'Abrioni abbia compreso che manovre azzardate di rinnovamento non portano da nessuna parte e che quindi si recuperi la qualità del prodotto, la nicchia di mercato che compete all'Abrioni, che fa dell'eccellenza, del made in Italy, del fatto a mano il suo obiettivo, la sua mission e che lasci perdere tentativi azzardati di rinnovamento che comunque puntano sulla riduzione del costo del lavoro anziché sul recupero della qualità. La questione ora torna in mano al tavolo tecnico tra la proprietà, i sindacati e la regione con l'assessore alle attività produttive Giovanni Lolli, un duro colpo l'ennesimo che preoccupa sul destino di uno storico brand del made in Italy di cui l'Abruzzo può vantare i Natali. Oggi la traversata del deserto è lunga, noi dobbiamo puntare a un obiettivo di rilancio per mantenere inalterate i due aspetti che fanno dell'Abrioni un'unicità che sono la quantità e la qualità del prodotto. Se uno di questi due viene a mancare, l'Abrioni si trasforma, non è più quella.